Anche Ennio, il terzo dei padri fondatori, diede un importante contributo al teatro latino, soprattutto nel genere della tragedia. Possediamo circa 200 frammenti di una ventina di tragedie, queste ultime erano in genere coturnate, cioè tragedie di argomento mitologico greco, con una particolare predilezione per episodi della guerra di Troia. Sappiamo però che sulla scia di Nevio Ennio scrisse anche due pretexte, tragedie di ambientazione e argomento romano, le Sabine sul Ratto delle Sabine e l'Ambracia sulla guerra che il suo protettore, Marco Fulvio Nobiliore, condusse nel 189 a.C. contro gli Etoli in Grecia.